C.C.H.I.A.M.A.V.A. Silvia Becherini, la ragazza di 25 anni di casciana alta, che ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungo via del commercio, alla Capanina Secondo una prima ricostruzione di Quinevswald era. La ragazza stava guidando la sua Renault Vingo, quando è finita fuori strada e ha urtato violentemente il muretto di un'abitazione Immediati i soccorsi, e la corsa in ospedale, dove purtroppo la giovane è deceduta alcune ore dopo in seguito alle ferite riportate Il post degli amici non esistono parole per questi dolori, ma ti voglio ricordare con il sorriso queste le parole dell'amica Tania